Hanno truffato la pubblica amministrazione mediante minacce, falso ideologico, condizionamenti delle gare d'appalto e naturalmente corruzione sono le accusi a vario titolo nei confronti di otto indagati, tre dei quali sono finiti oggi in carcere, cinque agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta che ha visto al lavoro la Procura della Repubblica guidata da Giuseppe Borrelli. Questa mattina il reparto territoriale Carabinieri di Nocere Inferiore guidato da Gianfranco Albanese ha dato esecuzione a Pagani alle ordinanze di misure cautelari che colpiscono in primo luogo l'imprenditore Alfonso Marrazzo considerato riferimento per le attività imprenditoriali ed economiche del clan Fezza De Vivo. Marrazzo già condannato per concorso in associazione mafiosa attualmente ai domiciliari consigliere comunale di Pagani ed assessore all'ambiente fino al 2016 è accusato mediante la cooperativa Pedema di cui era presidente di essere riuscito ad infiltrarsi nel tessuto economico e amministrativo del comune di Pagani. Secondo le accuse Marrazzo attraverso la società utilizzata dal clan Fezza De Vivo riusciva a ottenere in maniera illegittima anche mediante scambio di favori e prestazioni appalti pubblici comunali come la gestione del cimitero, il servizio di spazzamento delle strade e altri servizi. Ci era riuscito naturalmente con la complicità di alcuni funzionari del comune di Pagani compresi i servizi legati anche all'emergenza covid soprattutto per quanto riguarda la sanificazione. Secondo l'inchiesta il clan Fezza De Vivo per confermare il potere imprenditoriale della cooperativa ha tentato anche di condizionare le elezioni amministrative a Pagani imponendo il voto in favore di propri candidati estranei alla coalizione risultata poi vincitrice. Grazie a tutti.